Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Ti racconto un libro. Anche oggi quindi siamo pronti a immergerci in una lettura straordinaria, un esordio del 2023 che ha letteralmente estregato migliaia di lettori in tutto il mondo ed è The Turn Glass, la clessidra di cristallo di Gareth Rubin, edito da Longanesi. Ora come potete vedere, qui infatti c'è il codice di SBN, questo è un romanzo molto particolare, è proprio un oggetto che si presenta in modo particolare perché è un romanzo death bash ed è una storia che in realtà racchiude due storie che sono disunite e legate fra loro, anche se a questo ci arriveremo, e la particolarità di questo romanzo è che appunto come una clessidra basterà capogolgerla e andremo a scoprire l'altra storia che compone il romanzo. Allora, andiamo per ordine, quindi cominciamo con quella che, con la storia che io ho iniziato a leggere, io ho seguito il suggerimento dell'editore per quanto riguardava l'impaginazione, quindi ho cominciato dalla prima storia che nella narrazione si svolge in Inghilterra alla fine del 1800, siamo, se non erano nel 1881, e ci racconta la storia di Simonon che è un giovane medico che sta cercando di fare delle ricerche, di proporre delle ricerche per quanto riguarda il colera, per sconfiggere questa piaga che affliggeva appunto l'Inghilterra in quel periodo e per una serie di ragioni non riesce a ottenere il finanziamento, infatti la sua ricerca venne superata da quella di un altro dottore e lui viene contattato praticamente da suo padre il quale gli dice che se vuole c'è un'occupazione per lui, anzi suo zio è in gravi condizioni di salute, ha bisogno di assistenza e quindi appunto se vuole può andare ad aiutarlo e Simonon dopo aver ricevuto questa ennesima delusione per quanto riguarda questa ricerca medica decide di accettare e quindi si mette in viaggio. Ora il posto in cui vive quest'uomo, lo zio malato, non è un posto molto comune, infatti si trova in un'isola sperduta appunto dell'Inghilterra e la casa in particolare del Turner Glass House è praticamente agganciata al resto della terraferma da una striscia, una strada che è veramente una striscia che viene periodicamente sommersa dalle maree, quindi occorre fare molta attenzione appunto a quello che è il moto delle maree se si vuole tornare a casa, ecco, i soldoni è questo. Un po' come Mont Saint-Michel, ecco, per rendervi l'idea. Quindi quando c'è l'alta marea ovviamente la casa viene isolata, nel momento in cui c'è la bassa marea invece si può accedere, insomma, si può andare via da Turner Glass House. Simonon arriva in questa grande villa, una villa che ha un aspetto che alle storie viene presentata in maniera un po' spettrale. Anche il clima ovviamente aiuta a rendere l'atmosfera molto cupa, molto misteriosa e in effetti la sensazione che ha Simon nel momento in cui arriva e conosce lo zio che è un parroco, è il parroco della zona, è proprio quella di qualcosa di misterioso, di qualcosa di risolto. È come se sulla casa, come se la casa fosse legata in qualche modo a delle presenze oscure, a qualcosa di malvagio, ecco, che la abita, abita alle sue stanze. E interagisce quindi con lo zio che appunto si presenta come già malato ma di una malattia sconosciuta, lui stesso non riesce a capacitarsi di che cosa gli stia succedendo. E' sì, diciamo, moderatamente anziano, non è, diciamo, proprio decrepito, ecco, ma non capisce che cosa gli stia succedendo e quindi appunto ha chiesto aiuto al nipote che è un medico e si confronta anche con i servitori che si trovano, che servono il parroco a Turner Glass House e incontra anche una donna, una donna molto particolare, infatti si trova praticamente dietro un vetro, lei è totalmente isolata dal resto degli abitanti della casa, che appunto è in una stanza, vive praticamente in una stanza, come se fosse murata, solamente che non c'è un muro ma c'è una lastra di vetro e si trova nella biblioteca. Quindi se si vuole, diciamo, interagire con lei, si deve andare appunto nella biblioteca e si può parlare con lei. Ora, Simon giustamente dice, ma chi diamine è questa donna? Perché su The Turner Glass House, diciamo, pende non tanto un mistero quanto un crimine. Cioè è stato commesso un crimine all'interno di quella casa perché Florence, che è la donna che noi vediamo dietro il vetro, è stata accusata di aver ucciso suo marito, che viveva sempre lì appunto, e di essere poi sfuggita. Di essere fuggita e poi ovviamente riacciuffata e portata lì. Lei è stata accusata di aver ucciso suo marito per gelosia, è stato un delitto passionale. Ma nel momento in cui Simon comincia a scavare un po' nella vita di questa donna, che inizialmente non gli parla, non gli rivolge la parola, ma ha sempre un sorriso molto misterioso e molto criptico sul viso, quasi come se fosse una Mona Lisa. Quindi è indecifrabile. Inizialmente è veramente un rebus, ma a poco a poco Simon riesce un po' a parlare con lei, riesce a farla parlare, e conosce a poco a poco la storia di questa donna. È una storia, e nel frattempo le condizioni del parroco si aggravano sempre di più, di una malattia che per quanto Simon provi a cercare nell'origine, la radice non riesce proprio a capire da che cosa sia nato questo malessere e che cos'è che lo sta uccidendo. Pensa a un'intossicazione alimentare, ma in realtà poi il cibo che lui mangia è lo stesso che mangiano anche i servitori. Non ci sono differenze, Simon stesso lo controlla, quindi questo rimane per lui un grande cruccio, perché prova in tutti i modi a cercare di trovare una ragione, quindi trovare anche una cura, ma non riesce. E nel frattempo, dicevo, invece poco a poco stringe un po' più il legame con questa donna così misteriosa, e ne scopre poi alla fine la storia. Ora, il parroco, non so se può essere considerato spoiler, ma comunque forse lo metterò qui in minutaggio, il parroco comunque muore, e Simon viene a scoprire quella che è la verità sulla storia di Florence, perché Florence è vero, ha ucciso suo marito, in realtà però è stata ingannata, perché suo marito non l'aveva tradita, non l'aveva tradita con una ragazza del posto, e la lettera che era stata recapitata a Florence, secondo la quale appunto il marito la tradiva con quest'altra donna, in realtà non era stata scritta dall'uomo, ma era tutto quanto un marchigegno, tutto un escamotage che aveva inventato il parroco e il suo braccio destro, amico mi sembrerebbe un po' troppo, mi sembrerebbe una definizione esagerata, sbagliata, comunque la persona con la quale lui stava, nel senso che una sorta di amico, diciamo così, e quindi dicevo, aveva orchestrato tutto questo per coprire quelle che erano in realtà le sue malefatte, perché il parroco appunto tutto era tranne una persona pura, per così dire, e quindi aveva messo su questa messa in scena nella quale però ci ha rimesso la vita appunto il marito di Florence, da questo poi è scaduta la fuga di Florence e la scoperta della verità, perché poi lei era andata a Londra, aveva scoperto quella che era la verità su questa donna, con la quale il marito l'avrebbe dovuta tradire, e scoprono tutto, ma la donna viene assassinata da questo specie di amico, tra molte virgolette, del parroco, e lei invece viene catturata e imprigionata in quella che era The Thorn Class House, dietro questa teca di vetro. E quindi diciamo che la narrazione si chiude in maniera piuttosto cupa e lascia veramente tantissima amarezza. Questo sì. Un elemento importante però nel corso di questa parte della storia di questo primo romanzo, nel romanzo, è il ritrovamento di un testo, di un libro, di un altro romanzo, che in realtà però si svolge nel futuro e narra la storia di un ragazzo che dall'America, dalla California, decide di imbarcarsi per l'Inghilterra per andare a cercare la verità su sua madre, scomparsa. E quindi questo è un elemento da non sottovalutare. Ora, andiamo alla seconda parte. Ah, piccola notazione, avevo dimenticato, prima di andare alla seconda parte, c'è un piccolo particolare, non trascurabile, che va segnalato, ossia, e questo fa parte dello spoiler, quindi lo segnalerò, che in realtà ad assassinare il parroco, perché come si diceva, sì ma alla fine di questo uomo di che cosa è morto, ad assassinare il parroco è stata in realtà Florence, e l'ha assassinato avvelenando di fatto il brandy che lui beveva abitualmente. È stato un processo lungo, ci ha impiegato circa un anno, perché lei appunto aveva inserito questo, aveva avvelenato di fatto il brandy, ma il vereno aveva appunto agito in maniera molto graduale, per insomma tutta quanta una questione che vi lascio scoprire da soli, e quindi il parroco è stato fatto fuori da lei, e perciò, come dicevo, questa prima parte della storia ci racconta una storia veramente di miseria, e soprattutto di vendetta. E poi parleremo anche approfonditamente di personaggi, ma adesso andiamo veramente all'altra storia. La seconda parte invece si svolge in America, esattamente in California, negli anni Trenta, e il protagonista di questo secondo romanzo è Ken Kurian, un ragazzo dell'Oklahoma, laureato, che tuttavia decide di provare a sfondare nel mondo del cinema, nel mondo dei film sonori che in quel momento stavano prendendo piede, e quindi si intuiva quella che poteva essere la forza di questo nuovo mezzo comunicativo, e quindi, dicevo, si trasferisce a Los Angeles, prova a tentare la fortuna, e si presenta a diversi casting, e così via. E durante una delle sue avventure cinematografiche conosce una ragazza che lo inviterà a una festa, esattamente, organizzata dall'alta società di Los Angeles, e in particolare andranno alla festa organizzata dal figlio del governatore, il governatore Tuck, e il suo figlio si chiama Oliver, Oliver Tuck. Ora, Ken andrà con questa ragazza alla festa e incontrerà Oliver. Oliver è un personaggio, è un ragazzo molto particolare, perché è veramente un ragazzo che ha qualsiasi possibilità, ha veramente tutto quello che desidera al mondo, ce l'ha, ce lo potrebbe avere, e è un romanziere, infatti, sta per pubblicare il suo romanzo, e ricordatevi questo particolare, sta per pubblicare il suo romanzo, e tuttavia è una persona, è un uomo che non sembra affatto felice della sua vita, è come se fosse affetto da una profonda malinconia, da un senso di colpa lacerante, che appunto lo devasta. Ken prova a entrare un po' in confidenza con lui, e poi ci riesce, in realtà si vengono poi una bellissima amicizia, alla quale poi si aggiunge anche la sorella di Oliver, Coraline, e insieme formano un bel trio. Ken è, lui stesso è sorpreso da questa amicizia, così nata in modo così spontaneo e anche così bello, ma nel momento in cui Oliver viene assassinato, tutto comincia a precipitare, e viene assassinato a causa, si pensa, inizialmente si pensa che sia stato semplicemente un suicidio, proprio perché lui aveva questa profonda, era affetto da questa profonda malinconia, non direi depressione, ma una profonda malinconia, un grandissimo senso di colpa, e tuttavia Ken capisce da subito, perché lui per una serie di ragioni non si trova sulla scena del delitto, ma nota qualche cosa di strano, e poi succederà appunto, ci sarà poi la morte di Oliver, e quindi lo segnala alla polizia e dice, no guardate non si tratta di un suicidio, si tratta di un omicidio, perché io ho visto questo, e inizialmente la polizia non gli crede, non gli dà alcuna importanza alle parole di Ken, e per questo lui comincia a dire, ok, io so che le cose sono andate in maniera diversa, non so perché la polizia si stia comportando in questo modo, ossia voglia, come dire, liquidare il tutto con un semplice suicidio, e quindi decide di indagare, e insieme a lui ovviamente indaga anche la sorella di Oliver, perché comunque loro due erano sempre, fratello e sorella, erano sempre legati, e quindi cominciano a indagare, e tante delle risposte, loro le trovano proprio nel romanzo che Oliver aveva scritto. Dicevo, è un romanzo davvero unico, perché proprio nel romanzo ci sono tantissimi indizi disseminati che porteranno Ken e Coraline a scoprire la verità sulla sua morte, ma a scoprire una verità ancora più agghiacciante. E questo devo dire che ha spiazzato anche me, e ha a che fare con il fratello di Oliver e di Coraline, che tutti sanno essere morto, essere stato rapito, mentre erano in Inghilterra, e in seguito a questo rapimento, questo bambino è sparito, lui era poliomilitico, e sua madre, e la madre dei ragazzi, allo stesso modo, non ha retto il colpo, e quindi è morta anche lei. In realtà scopriranno che la madre, Florence, la stessa Florence che era dietro la teca di vetro, ve la ricordate? Ecco, che la stessa Florence, ovviamente lei, non è morta, infatti Ken e Coraline riusciranno a ritrovarla in un istituto gestito da delle religiose, riusciranno a ritrovarla, a riportarla in America, ma anche lei purtroppo viene trovata uccisa. Lì, di nuovo, si pensa a un suicidio, perché c'è un'impiccagione, ma in realtà nessuno è convinto che si tratti di un suicidio quanto di un omicidio. e perché? Perché il governatore, il governatore Tuck, aveva deciso, e questa è una cosa terribile, già sono da pensare, quindi figuratevi da raccontare, in realtà aveva deciso con la complicità di un dottore, di un medico, che apparteneva alla società americana di eugenetica, sì, proprio quella parola lì, che ci ricorda tanto qualcosa, una pagina oscura della Germania, della prima metà del Novecento, diciamo, negli anni 30-40, quella lì, e quindi aveva deciso di sopprimere il figlio malato, un figlio difettoso, di fatto, però non si era fermato a questo, perché non gli è bastato uccidere suo figlio, ma ha dovuto fare anche uno scambio di identità, ossia, Oliver, quello che noi abbiamo conosciuto inizialmente come Oliver, in realtà era Alexander, e ovviamente Alexander era Oliver, e questo perché Oliver doveva essere quello designato, secondo il padre, a raccogliere le identità della famiglia Tuuk, doveva essere il nuovo capofamiglia, il nuovo capostipide di questa famiglia, e bla bla bla. Ovviamente Ken e Coraline scoprono tutto questo, e come potete immaginare, le cose non finiscono bene, ecco, e quindi tutti i fili si annodano, ma in questo viene coinvolto anche il nonno, e il nonno dei ragazzi è Simon, proprio quello lì, proprio quello del romanzo, ma viene coinvolto in una maniera marginale, che tuttavia comunque lascia sempre quell'amaro sull'amaro in bocca che una volta chiuso il romanzo, in qualunque modo, lascia un po' perplessi. Ma ora andiamo a quella che è l'analisi di questo romanzo così particolare, così intrecciato, romanzo nel romanzo. Dunque, di questa storia posso dire di aver amato particolarmente le ambientazioni, infatti l'ambientazione penso che possa essere considerata quasi un personaggio ausilico, diciamo la stregua di un coprotagonista, sia nella parte inglese, sia nella parte californiana. Devo dire che l'autore è stato molto bravo a dipingere le scene in modo da trasmettere, da enfatizzare quelle che poi sono le emozioni dei personaggi, quindi tutta questa cupezza e poi queste piogge incessanti, queste maree che salgono e si abbassano e il fango, questa sorta di sabbia mobili che si trovano appunto dove si trova The Thornglass House nella parte inglese, un'atmosfera cupa a tratti di kensiana che mi ha fatto tuttavia pensare anche al film Sleepy Hollow, anche se non c'entra nulla, però mi ha reso un po' quell'atmosfera lì, io almeno me la sono immaginata in quel modo lì, soprattutto poi quando si parla sia dell'ambientazione della villa ma anche del viaggio che poi il dottore farà Londra, in questa Londra così dei bassi fondi, è stato veramente secondo me un bello omaggio anche alla letteratura inglese, appunto a me ha fatto pensare moltissimo a Dickens ma con tantissimi, distingo chiaramente, e e poi anche la parte californiana che noi ci aspettiamo da lettori diciamo vabbè Los Angeles sarà sole a picco e basta e invece no, il sole è sì a picco e secondo me sottolinea una crudeltà, quella luce così forte, bruciante sottolinea la crudeltà che c'è, che è proprio un leitmotif che è in tutta quanta la narrazione sia della parte inglese che della parte californiana ma poi arrivano anche le piogge ovviamente nella parte soprattutto finale vediamo che c'è questa tempesta tropicale che sconvolge la cittadina e sconvolge anche il luogo dove si trovavano appunto Ken e Coraline e chiaramente sta lì è messa apposta lì dall'autore proprio per dare maggiore enfasi al momento che poi quello lì è quello del climax quindi è tutto concentrato lì e c'è questo bellissimo rimando all'ambientazione inglese con questa pioggia sferzante che in un certo senso lega il tutto e dà un significato aggiunto a questa storia perciò le ambientazioni devo dire che sono molto molto convincenti l'autore è stato davvero molto bravo è un ottimo un ottimo pittore di scene un ottimo pittore di ambientazioni per quanto riguarda i personaggi che posso dire sono molto tutti sia nella parte inglese che nella parte americana sono tutti quanti molto sfaccettati ma hanno tutti tranne Ken forse una sottile hanno un chiaroscuro molto accentuato dove spesso i chiari sono pochi e gli scuri sono veramente tanti e molto profondi quindi ti dà l'idea che alla fine siano un po' tutti colpevoli e che i buoni e cattivi la distinzione tra buoni e cattivi sia una linea sottilissima ripeto fatta eccezione di Ken che invece è effettivamente un eroe buono di questa di questa storia non ha grandi peccati da scontare mentre tutti quanti gli altri hanno qualche hanno un brutto scheletro nell'armadio un grande scheletro nell'armadio anzi direi che hanno praticamente un intero non lo so una distesa di scheletro negli armadi e quindi distesa di scheletro e quindi vabbè non soffermiamoci comunque tutti perciò sono ben tratteggiati questo sì la crudeltà viene messa ben in evidenza e soprattutto l'insospettabilità perché ad esempio la figura del parruco è quella che è un po' più spiazzante perché uno solo immagina in un certo modo e invece poi scopre che c'è dell'altro e quest'altro è veramente terribile e poi ci sono ovviamente i personaggi che sono chiaramente malvagi come Tyron che non è che insomma lì c'è ben poco da dire dal punto di vista di approfondimento psicologico però sono tutti quanti ben delineati anche il personaggio di Florence e mi riferisco alla donna dietro il vetro è ben delineato ben tratteggiato ben raccontato l'unica cosa tralasciando i personaggi l'unica cosa sulla quale mi sento un po' di fare qualche appunto è stato il ritmo del romanzo nel senso che nella prima parte che scusatemi c'è stato traffico rumori di fondo dicevo nella prima parte che identifico come quella inglese i fatti narrati sono veramente tanti io come lettore ho fatto un po' come lettrice ho fatto un po' di fatica perché vengono date tantissime informazioni e in breve tempo ma al contempo scusate il gioco di parole ma al contempo si ha la sensazione che la narrazione proceda un po' lentamente è come se fosse schizofrenico nel senso che ti dà tante informazioni tante cose ti racconta anche diverse cose ma si ha la sensazione che la narrazione in realtà proceda a rilento quando poi invece a un certo punto comincia ad accelerare e non si ferma più nella seconda parte invece il ritmo è un po' più scandito è ben scandito dal mio punto di vista perché si ha proprio la sensazione di anzi forse la parte iniziale della parte americana oddio è un pochino più lenta però nel momento in cui da quando viene trovato il corpo di Oliver in poi la narrazione procede a un ritmo ben scandito ci sono le giuste pause ci sono le giuste accelerazioni e quindi tutto risulta molto più piacevole ecco tra le due parti devo dire che quella che mi ha convinto di più dal punto di vista appunto autorale quindi del ritmo è sicuramente la parte americana per quanto riguarda invece le ambientazioni sarà che la mia anima vira verso quelle ambientazioni di cube misteriose anche gotiche e ovviamente quella inglese ma comunque il romanzo è un è piace i romanzi forse bisognerebbe dire sono scritti in maniera molto piacevole la scrittura è semplice tuttavia presenta delle belle particolarità e soprattutto l'autore come dicevo è stato molto abile raccontare i personaggi quindi nel tratteggiarli molto bene e nel renderli anche attraverso la lingua il loro fraseggio insomma è un romanzo ben costruito ben fatto forse andava migliorato un pochino sul ritmo ma per il resto non mi sento di fare grandi appunti perciò io personalmente vi consiglio la lettura di questo romanzo e chissà che cosa ci riserverà di nuovo quest'autore perché è una penna interessante ripeto da tenere sott'occhio bene per oggi quindi è tutto io come sempre vi invito a iscrivervi al canale e a attivare la campanella e a lasciare un like se il tipo di contenuti che propongo piacciono e vi saluto e vi lascio alla prossima anzi vi do appuntamento alla prossima lettura ciao